Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video su Valorant vi spiego come risolvere il problema riguardo alla CPU che arriva al 100%, così, dal nulla arriva al 100%, stai giocando a Valorant e stai avendo problemi di FPS che si alzano, scendono, perché è sempre colpa della CPU. Quindi in questo caso possiamo sempre risolvere il problema. Per prima cosa avviamo un attimo Valorant, faremo tutto in gestione attività nei servizi e nei processi del sistema e soprattutto anche in Windows Defender. Quindi in questo caso tieni aperto un attimo Valorant. Quindi in questo caso andiamo un attimo in gestione attività, tasto destro sul logo di Windows, gestione attività. Andiamo su Riot Client, questo qua. Andiamo su Vai ai dettagli. Andiamo così nei dettagli di tutti i servizi di Riot Client e quelli di Valorant. Ovviamente di Valorant, eccolo qua, Valorant.exe. Se tieni chiuso Valorant non ti uscirà mai questo servizio qua. Quindi andiamo su Riot Client, facciamo Modalità Efficienza. Non visualizzare più questo messaggio e fai OK. Tasto destro sopra, imposta Affinità. Ed eccole qua. Affinità processore. Togli tutte le CPU qua e fai rimanere solamente CPU 0 e fai OK. Lo fai su tutti, 1, 2, 3, sono 5 Riot Client. Quindi lo facciamo anche su questo. Ovviamente togli questo, togli questo, imposta Affinità e imposta Affinità. Se hai il servizio Vanguard di Valorant qua dentro, fai la stessa cosa anche lì sopra. Ovviamente andiamo a farlo anche su Riot Client Service.exe, imposta Affinità, si più 0. E fai OK. Scendiamo fino a giù, fino a trovare ed eccolo qua, il programma VGC.exe. Fortunatamente ci è uscito ed eccolo qua, Vanguard Use Mod Service. Tasto destro sopra, imposta Affinità. Si più 0 e fai OK. Stessa cosa anche su Valorant, imposta Affinità. E' imposta Affinità. E basta. Una volta fatto, chiudi un attimo Gestione Attività. Se in questo caso hai problemi con il VGC, ovviamente il VGC si attiva solamente se attivi il Security Boot per avviare Valorant. Ovviamente se provi ad avviare Valorant e ti esce il TPM 2.0 non è abilitato, il Security Boot non è abilitato. C'è un video in alto a destra che ti spiega come abilitare il Security Boot e così facendo ti uscirà anche il VGC.exe. In questo caso non dovesse andare, tasto destro sopra e fai Termina Attività. Una volta terminato si chiuderà anche Valorant. Chiudi qua e andiamo sui servizi. Sui servizi di sistema. Scendi fino a trovare il VGC che è in esecuzione. Ovviamente se non è in esecuzione, tu fai avvia. Se è in esecuzione, fai interrompi e lo riavvi di nuovo. Quindi faccio interrompi. Tipo di avvio, metto manuale e faccio avvia. Come puoi vedere Valorant è scontrato nel ruolo di connessione. Come è possibile? Perché riavvia il cliente per riconnetterti. Perché abbiamo disattivato il VGC, quindi facciamo esci. Quindi tipo di avvio, metto manuale. Eccolo qua e fai Applica. Una volta fatto, chiudi un attimo i servizi e andiamo direttamente sul Windows Defender. Vai su Protezione Firewall della rete e consenti app tramite Firewall. Vai su Modifica Impostazioni. Consenti un'altra app. Sfoglia. E andiamo a prendere così, Valorant. Riot Games, Valorant, Live, Valorant. E fai Apri. Quindi aggiungi app, Bootstrap Package Game, questo qua di Valorant. E fai Aggiungi. E' già nell'elenco delle eccezioni, quindi fai OK e fai nulla. E andiamo a trovare questo Bootstrap, quindi con la B. Eccolo qua. Bootstrap Package Game. Privata. E pubblica. E fai OK. Consenti app tramite Firewall. Vai di nuovo a Modifica Impostazioni. Consenti un'altra app. Vai sfoglia. Torniamo indietro, vai sul volume E. C'è sul tuo disco dove è installato Valorant. Riot Games, Riot Client, Riot Client Survive. Riot Client. E fai Aggiungi. Riot Client, come puoi vedere, ce ne sono due. Pubblico. E fai OK. Una volta fatto, chiudiamo un attimo qua. Se non dovesse funzionare, quello che ti consiglio di fare è disinstallare direttamente. Ovviamente puoi riscontrare problemi se teni il programma dove Riot Client è Valorant sul disco locale CSM al sistema operativo e puoi riscontrare un problema. Quindi in questo caso io l'ho installato sul volume E dove tengo i giochi. Quindi in alto a destra c'è pure il tutorial su come installare completamente il gioco su un altro disco. Quindi il tutorial si trova nelle schede. Ovviamente se vado a fare installa Valorant. Riot Games, come puoi vedere. Se è la prima volta che lo installi, come per esempio c'è chi lo installa per la prima volta, lo installa direttamente e basta. Lo sceglie dove installare così il gioco. Faccio su opzioni avanzate ed eccolo qua. Percorsi di installazione. Scegli così il percorso di installazione. Per esempio io l'ho installato sul volume E. E faccio OK. Riot Games e faccio installa. E me lo installa su un altro disco. Ok. Quindi in questo caso, se questo video ti è stato utilissimo su come diminuire così la percentuale della CPU e non farla arrivare a più a 100. Ovviamente se hai altri problemi commenta sotto al video. Cercherò di fare un'altra guida più completa. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.